la salina se sei brindato bene la fai fast ho portato più che mai il jester eh si ho capito che è importante ok 100% del room battle questa sud è vuota quindi andiamo a destra no aspetta io sono qua ok aspetta eh potrei fare un giro così tipo non mi ricordo eh non mi ricordo credo 5 portarsi per avanti eh lo so però si toglie stress si quello si tanto c'ho il ladro che fa i turni gratis con riposte cioè il ladro vale per due per due mini sinceramente sinceramente ragazzi mi sa che stasera si fa le due e mezzo le due e mezzo perché è lungo questo ok ok baffettino vai con questo si già adesso che non attacca dietro mi sta scocciando benno effetti però facciamo così e abbiamo tolto uno stressatore altro altro morto altro morto crit no sicura finale colpisce ovunque comunque 53 eh non ha nemmeno oggetti da danno ma io pensavo finale funzionasse in un altro modo no cioè perché dice più 100 stress no dice più più 100 per cento stress si fa un debattere che subisce doppio stress per un round allora è comodissimo in realtà perché fosse molto più devastante per un round credo più 100 per cento per sempre no 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 ogni volta che l'ho fatti da 100 per cento no 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 non è giocabile infatti se fosse una mossa di bastanti invece no diciamo è buona dai cioè non è rotta insomma perché ha delle conseguenze signora libri se fanno stress un cazzo andiamo avanti oh un bel muretto vai beh comunque non sembra così enorme come danno no no c'è il goal subito song lui c'ha tanto prot e tanto dodge questo è un problema perché non abbiamo debuff con questo team però possiamo provare a stunnarlo no va ok uno contro quattro attaccato proprio meno che mortale vabbè un imbecille stun ha resistito di nuovo no horror aspetta c'ho laudanum eh 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 finale wow 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 laudanum vai stun stun lo ti prego si curiamo lo stress ciao ciao io non avevo capito che il goal c'aveva 40% di prot è tanto è veramente tanto si davano tutti un sacco di prot si tipo c'è un boss DLC che sotto il 45% di vita tipo 80% di prot non gli togli più niente oh cazzo tipo gli dai un colpo con lì per gli togli 5 è già tanto con 80% ha fatto lo puoi trovare a caso mentre ti facendo la storia non c'è neanche un coso interagibile ah e poi sei nella merda di troppo sto mostro oh cazzo per questo non mi piace eh eh spommare troppe del cia all'inizio però ti da ti dai cristalli eh eh cazzo immagino però non so non so se conviene ops ma questi retacchi di fame come funzionano perchè a me tipo una volta ho fatto un giro di quattro stanze e mi ha chiesto tre volte di mangiare in pochissimo tempo eh perchè sono casuali cioè non sono ogni tot ah sono casuali si quindi potresti averne uno zero o tre di fila dipende madonna già c'è comunque con delle cose che tolgono questo check eh non ti copia ti pare quella roba nella factory che li toglie eh si non verrebbe un bot si perchè sennò devi portarti un botto di cibo invece dopo col cibo tu sai che lo devi investire solo per i camp te lo puoi anche contare capito beh per adesso sta andando piuttosto chill la la situazione però vorrei parlare presto no se io facevo come along non devo neanche accamparmi ma quello io non l'ho mai fatto perchè so l'opportunità di farlo eh lo voglio usare insomma si l'ho fatto alla fine per farmi aggredire che pazzo vabbè l'audo non via dai anche lì water vado a spingere 500 vai no 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 food jack eccolo no 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 c'è sempre col discorso no hai guardato non ho capito non si sa niente di niente ah io no oggi a pranzo l'avevo visto però poi la sera io ah sì sì la sera io stavo guardando un po' di cose del blue archive e quindi stavo facendo il prologo e quindi ho mangiato guardando quello l'episodio era il 9 te lo dico subito guarda cosa succede cosa succede no no non l'ho guardato solo visto che usciva ah ecco doveva uscire comunque il 10 c'è uscito aspetta lo skype si 10 la 12 mette un minuto ops crit coglione è che il ladro è troppo forte è questo il discorso ladro è veramente sbagliato eh ah ah che Ho sbagliato la comp Ho fatto un po' di danni Vabbè Uno è morto Quattordici Aia Mi sa che toccherà fare un camp Vai fai quella d'area Que tonto Nol Coglione No No Ho fatto un paio di errori Stanza vuota Ok No Lui no Ah il moon è stun Fortuna che ho sbagliato il kill Non ho fatto stun Ho fatto il danno Buono Molto buono Oh Vai così Benno Vai così E alzati Campione Non è un campione È un legend A livello 6 Ho fissato che A livello 6 erano Champion Champion è il 5 Il 6 è legend No Questo non l'avevo previsto Molto 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 male Molto male Molto male Questa battaglia sarà tosto Molto tosto Ottimo però Stanno attaccando a lui Bene Bene Questo ci piace Sì sì Proteggi la fava Vieni Vieni 23 Aia No però un po' A missare così Che cazzo Tutti a lui però adesso Giustamente 16 danni 16 danni Sì sì Suona Stromba Finché puoi Merda Vabbè 8 danni a lei Possiamo prendere C'ha 10 di vita Non credo che 10 Ce la facciamo Quindi faccio questo E faccio questo Qui facciamo un pistol shot E risolti No è vivo Ho sbagliato mossa poi Perché tanto Tanto pare che facevo la Riposte Vabbè Morto Scusate So Iniziamo a crullare Iniziamo a crullare Io con 8% di batteria Proprio a spostare Ah ok Cosa mi chiede Ben tornato No Buono Che cazzo però Stun Ok Dove l'ho trovato Konami D Konami D Eh Mi sono scordato i passi Ma non potevi tipo Collegare questo account A un Konami D Cioè nel senso Far rigenerare Un ID Oppure ti registri Su Konami Vedrai Konami D Quello della switch Ma non ho idea Di dove andata a trovare Eh non sarà su impostazioni Solite cose Adesso guardo Adesso guardo Non ma è Di dove andate Così Ma è Questo Stato Lo Ben È Che Iniziamo ok si oh madonna già scusate che finora per troppare questo io giocerò solo mondo toon i due account e gli effetti sono difficili da gestire vado quello che usato così a cazzo ci sta immagini che da email collegato alla switch non so se la mail nel senso che ti registri proprio a konami ecco mi hai richiesto il cibo comunque ti registri a konami e dopo i dici qual è l'id che hai su switch non so se è il contrario ma perché c'è il pagliaccio davanti ah ops grazie piccolo incidente di percorso eh goal che palle decisivo Che cazzo Yo Beccati questo Se avrai pronta alta ma come te la cavi a stun? Perché sono 10 danni? Grande pera Carino sto ring però Tenacity ring Più 10 death blow resist E più 5 dodge Carino Non male affatto Altro food check vicino Secondo me ti fa tanti food check Quando fai i corridoi lunghi Che rollerà una volta per corridoio In base a quanti quadratini è Più probabile che ti viene Un momento di respite A chance to steal oneself Against the coming horrors Adesso ti passerò anche il mio account switch Cosa? Un giorno ti passerò pure il mio account switch Ah Oddio E magari ti puoi giocare a quei giochetti Sull'offcraft che avevo preso Ma ci può stare Oh niente mi sa che devo proprio crearlo Sì Che io abbia capito Sì però T'ho detto Sono in un momento in cui potrei dirti una cazzata Sì Tant'è spavozione Madonna del signore Madonna quanto mi ha fatto bestemmiare oggi Yu-Gi-Oh No 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 Merda Oh bandierotto A incalzare Sì è fortissimo Veramente forte Tocca attaccare questo Perché sta proteggendo il bandierotto No lui Non deve attaccare lui Sta andando tutto male Sta andando tutto male Ops Sei da solo amico E adesso come la mettiamo? Tipo C'è la frase base dei bulli Sui film americani Ti prenderemo Trattini trattini Completa quel cognome Del personaggio Con cui ce l'hanno Ti prenderemo pietra È proprio un classico Che palle che ha evocato Un tank È resistentissimo È resistentissimo a stun Pure Non volevo fare di finale Per gusto ma È andata Trappola tra poco Che butto È bene Vaffanculo Oh oh Bergoglio 32 32 Aia Madonna che cattiveria Che ha questo team C'è un odio per l'empio Questo team Che straborda Ancora abbiamo davanti Un po' di fight Un po' di fight Ecco lì Sbagliato in una posizione Molto bene Scandalizza il QR code Dio buono Eh già No Ahia però Che cazzo Finale 20 danni Oh oh Pare che qualcuno Ha criptato Sul Sulla rad Ah Ah Questo ho fatto male Ah 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 ho questa paura però non so ci dovrebbe essere un modo però perché non è giusto perchè da switch non può fare un cazzo questo può ruotare l'altro veramente strano siamo un po' felici no al bon jump andiamo a questo come lo buttiamo giù non cazzo c'è anche un arbalest questo va tolto subito che crit è posso cantarti una canzone però non posso curare la tua carne no oddio no grande menno torna in piedi torna in piedi no lo stesso sta andando fuori controllo no 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 che forse eh ma ci credo ma non muoiono mai ma che quanti turni si aspettava che ci mettessi per fare sta battaglia al gioco scusa eh ma cristo ma cristo finale finale delle vostre vite merde si benno si rialza sempre bene cioè è tornato a 20 stress 27 vabbè che roba ragazzi che roba ragazzi abbiamo finito non che oggi che non sì che quella questo che non non che che La luce e la promessa di sicurezza. Miserabile, sono proprio miserabile. La luce e la promessa di sicurezza. Siamo, è l'ultima battaglia. La luce e la promessa di sicurezza. Che cos'è? Detenting Goblet. Ma ho droppato l'oggetto che il tizio ha in mano. Ma era un oggetto? Ma cazzo. Ma pensate, ma quanto è raro per averlo trovato adesso? Più 20 max HP, più 3 speed, più 3 dodge. Però più 25% stress e meno 10% virtue. Oddio. Ma figo. Dodge e speed non è male, max HP un po' inutile secondo me come stat. Però... Prendiamo questi oggetti per terra e andiamo. Ok. E qua. Loot. Eeeh... Mettiamo il cibo. Slot. Fatta. Preso oggetto raro, insieme a un altro oggetto raro. Sessantaquattro scudi mi riporto. Sessantaquattro scudi mi riporto. Molto onesto. Molto, molto onesto. Che succede? Il prete si è sequestrato, isolato nel Mind Cellar. Cercando di considerare come meglio aiutare i coloro che devono subire un diluvio di orrori senza divinità che affliggono questa terra. Mai di ara. Bellissimo, scritto benissimo. Carretto. Abomination al 4, attenzione. Un'abomination fortissima. Peccato. Che non mi fa impazzire. Figo, eh? Oddio. Ce la sto facendo, forse. Sì? Configurazione trasferimento dati completata. Io ho. E adesso cosa devo fare? Eh, adesso... T'ho accenduto sul cellulare. Sì, fai in basso a destra e devi inserire questi dati. Stai comprendo una roba impossibile. Eh, ma cosa devo inserire adesso? Un indirizzo migliore della Switch, immagino. Tu? Ehm, ma non credo. Ehm... Quale è andato proprio in sito. Il Konami D, quello lì che non ti è apparsa il Konami D? Ehm... Andrì, non lo so. Attenzione, Slade Boss. Gibber in Profit. Che dà il suo occhio. Il suo occhio gli dà precisione più 4, velocità più 3, e stress meno 15 se sei in posizione 4. Cazzo. Cazzo. Non male. Proprio forte. Cazzo, una Candle of Life, però fa schifo. Va bene, ragazzi. Prossima volta sicuramente boss delle Ruins. E poi ci mancano 3 boss e poi andiamo nel Darkest. Voglio vederla. Cazzo. Medium, comunque. A quanto pare. Il Darkest. Sono curioso. Ci si potrebbe andare anche adesso. Niente ci rompedisce. Però... Parola d'ordine. Parola d'ordine? Ciao. Sì. Ma non ce l'ho messo. Poi... Yo Top Va bene, intanto Ah, ho 69.999 soldi Interessante come numero 69.999 Sì Va bene Per quanto riguarda Darkest Ci salutiamo qua E ci becchiamo alla prossima Con il boss dell'Heroids Ciao ciao Alla prossima Ciao